Ciao a tutti ragazzi, sono Power Lite e oggi siamo su un nuovo gioco Oggi staranno su, come potete vedere, siamo su Payday 2 Per chi non lo conoscesse, è un gioco di rapine a mano armata La potete scaricare da Steam, ha la modica cifra di 27 euro E niente, noi siamo questo personaggio qua e possiamo giocare sia online che offline Io per ora inizierei a farlo offline, a fare alcune rapine così, offline Ok ragazzi, iniziamo con una facile, facile Si ok, va bene, va, va Col suo in banca denaro, vediamo un po', individua la banca denaro, è troppo brutto Cioè, l'ho già iniziato a giocare, ho già un po' alcune gioiellerie Alcune cose l'ho già... Ho già conosciuto, come... Come funzionano Io direi di fare questo, dovremo... Locale per la gioielleria Cercare la cassaforte Rubare la gioiella, riporteremo il bricolo per la stazione Ok, accettiamo E niente ragazzi, scusate questa assenza di questi giorni Cioè, di questi mesi così, perché ho avuto tanto, tanto da fare E niente... La Ant Farm, come ho visto questo episodio, ho detto che non... non continuerà Perché mi si è affermato tutto il computer e quindi ho perso tutti i video Mi scuso per questo inconveniente Ora... contatterò... Zeus e sento un po' se... Se si continua dalla Sky Ant Farm oppure... niente, si finisce lì Comunque, siamo pronti, via Ok... 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 Questa è la sorileria che dovremo rapinare, eh... Lui è la guardia... Che cazzo vuoi, ma... Ok, quel sericeschio che si... Che di una volta si verifica... È il livello di attenzione di una guardia... Ok... Ok... Io voglio entrare a vedere i segnali e lui... Solamente mi... Allora... Ciao... Ehi, ciao baby... Ciao... Ciao... Sì, no... Sì... Questa bella, bella... Sì... Panzone... Ma perché... No, che schifo... Va, vabbè... Panzone... Panzone... Ciao... Ok, ragazzi... Io direi di... Andarmi a trupolare qua dietro... Vedere un poco male... Adesso... No, scherziamo... No, scherziamo... Questa è la cassaforte che devo... Svaliggiare... Direi di... Indossare... Non è un'altra guardia di là... Ok... Direi di indossare la maschera qua... Sì... Ok... 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 Lo metto qua... E... Aspetta... Sì... Ehm... 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 No... Ehm... Ok... 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 Sitti... Alziamo... Stati seduti... Tutti seduti... Stati... Di me... Ok... 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 Tutti seduti... Sparcare le vetrine... Ok... Ok... Sparcare le vetrine... Dobbiamo sparcare le vetrine... E prendere le gioiali... Ok, intanto vado a posizionare subito immediatamente la caffola di trafono per definire la cassa forte. Ok, scusate un secondo, l'audio devo abbastarlo, sennò parlo ovviamente la mia voce. Ok, 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 prendiamo la caffola, cerchiamo tutte le vetrine, adesso rimedio di spazio, ricarichiamo i miei gioiali, ok, lui è sposto per il fondo, coca, ok, non si ha chiuso i gioiali possibili, intanto il trafono di là sta. Perforando, bene, ok, non c'è più niente, buono. Che cazzo ci fai tu in piedi, bastardo? Cazzo di merda mi sparano anche questi spazi, bastardo, 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 cazzo di merda. Ok, ok, siamo in un buon punto, dobbiamo prendere tutti i due allei che possiamo, perché sono un bottino in giù. Ok. Sono adesso verso, quindi sta arrivando il camion, buono. Ok, 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 ok. Qua non fanno un cazzo, bambini, andiamo. Allora, a vedere il trafono di là, come il procede, quanti secondi mancano? 180i secondi, buono, buono. Non è dietro? Niente. Andiamo a vedere un po' la situazione di là. Certo, qui si era un po' di feglione. Sì, tu guardi avuto C'è un testato che mi spara Ok, non puoi sbagliare Non puoi sbagliare, non puoi sbagliare Ah, sei a lì Qui ne guarda? Qui va? Ok, qui ne guarda là Sono ancora tutti i gioielli Questi che prendo nelle vetrine Sono... Cioè, denaro in più Al bottino che troveremo qua Pezzo di merda Il bottino che troverò qua È in più Praticamente la paga È in più Però adesso devo solo aspettare che Apra questa cassaforte Dover riempire la borsone di... Di soldi E niente E... E finirà Ok, ragazzi Per oggi faccio una rapina sola Poi vedrò magari di caricare anche più Più... Fa un c**o Il c**o se ne vuole andare Merda C'è un c**chino Mi questo Buongiorno Scusate se non parlo di così tanto però... Cazzo Medaro, la pistolina e basta Che è anche scarica Fanculo Si sta inceppato il trapano Si sta inceppato il trapano Voi ma nel culo Non ve le potete mettere? Minchia Ok ragazzi siamo un po' nella merda Perché sta arrivando un casino Il trapano si sta inceppato E il camion e il furgone No è sempre là però Ok mancano il trap e scondi Eeeh Vediamo un po' se qualcuno vi fa Ok L'assalto della polizia Prima l'assalto della polizia Merda Non so mi ho scoperto il cattino Cazzo Si è ricevato il trapano Ma è il mamma e alla Ragazzi delle volte Non so se non parlo Ma sono concentrato sulla missione C'è dei spezzoni di video Che Sto c'è ieri Sì 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 Mi ha piaciuto il trapano Mh 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 ragazzi no, queste immagini no, le stronti stanno fuori ok, la camera mi sono posizionato questo che è il kit medico che vuole essere posto due volte ok, ok, ho finito infatti vedete ora devo fare F per prendere, no, cazzo, il bozzone F per prendere i soldi devo portare il bozzone rifariciamo che lago C'è un giro? c'è un giro... Come po' è che poteva le radia sul? C'è un giro per signista? Chi si si che io la c'eo ho un giro per significa chi ci si è mandati, è un giro per significi ok Sì, ho detto... Ok, ok... Sto di merda... Ok... Devo rubare altre due porzioni di soiello Di mezzo... Questa è la scuola... Ok... Questa è la scuola... Questa è la scuola... Questa è la scuola... Questa è la scuola... Mee... Tutta la merda... Ok, ricarica... Scarica... Sta po' su... Sto ancora solo su... Questa è la scuola... Oh no 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 no... Ok... Questa è la scuola... Ok... Sniper, stai lupo! Troppo giante, troppo giante Troppo giante Troppa Troppo giante Sniper, stai lupo! Sniper, cazzo! ok l'ultimo sacco di gioielli questo video verrà piuttosto lungo però poi nel prossimo video magari vedrete delle armi no perché magari queste armi sono un po' più uscite perché ok ho un luce del fucile a ricarica perché il vostro è ventotto ho dato troppo spara, spara, spara grandissimo bonnie io non ce l'ho accorto veloce 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 butta dentro sì successo successo 30 mila del contratto il bottino in più sono 15 mila altri 50 mila in contanti quanto estero quanto? 77 mila in contanti quanto? 19 mila ah! vabbè esperienza ok ragazzi per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace se non siete ancora iscritti iscrivetevi bella raga ah aspetta c'è una carta prendiamo questa questa è una recompensa finale quindi scelta cos'è? eh ha ottenuto modificare calcio in legno da cecchino buono ma vabbè quindi niente ciao raga grazie grazie